Ti piacerebbe scoprire come guadagnare soldi semplicemente col passare del tempo attraverso le opzioni? Ciao, sono Giuseppe De Marco, responsabile dell'Area Trading in Alfio Bardolla Training Group e vorrei invitarti a un evento esclusivo e che non ha precedenti. Vedrai come un trader professionista che da anni ottiene risultati molto importanti ti mostrerà come opera sulle opzioni e come sfrutta una caratteristica fondamentale di questo strumento, cioè poter guadagnare soldi semplicemente vendendole sul mercato e lasciando passare il tempo. Questa è una caratteristica unica di questo strumento. Vedrai all'opera una persona che lo fa da anni ogni giorno sul mercato, ti mostrerà i suoi profitti e ti spiegherà come a tua volta potrai replicare le sue performance. Ti invito quindi al webinar che si terrà il 31 maggio alle 19 in cui vedrai tutto questo e oltre.